di solito la cronaca non ha da occuparsi di questi angolini tranquilli tutti presi dal loro quotidiano trantan di fabbriche di uova ma in un pollaio della periferia di roma si è verificato un avvenimento eccezionale nere come il carbone sono le uova di una gallina fin qui esemplare e come si vede del tutto normale come aspetto e dimensioni veterinari e biologi si sono già interessati del caso su cui la gallina non si pronuncia e che è tanto più misterioso in quanto all'interno delle uova è del più bel rosso immaginabile e appetibile degna di interesse comunque la tesi del padrone lei che ne dice siccome gli ho ammazzato il galle perché sono appappato è rimasta vedua adesso mi fa la maniera per risolvere l'universale problema della cameriera questo signore di sofia si è affidato a un pastore tedesco un cane addestrato da domestica tutto fare servizievole e fedele più di tutte le leggendarie e ormai inesistenti fantesche dalla sveglia al mattino alle rituali operazioni della spesa e gli sbriga con zelo tutte le faccende di casa la sera accompagna il padrone nelle scorribande notturne in clima di festival ha voluto esibirsi anche lui e come tanti ha cantato proprio come un cane è stato brevettato un nuovo sistema per vincere il fastidioso inconveniente del russare l'invenzione è completamente rivoluzionaria parte dalla pratica per arrivare alla psicologia e non consiste in un silenziatore ma in un potente amplificatore l'invenzione è stato brevettato un canale i casi sono due o ci si sveglia per il frastuono del proprio russare o si è svegliati a scopate sul muro dopo due o tre applicazioni si insinua nel soggetto il terribile complesso del russatore alla fine il complesso lo attanaglia a tal punto da fargli perdere il sonno ed è quasi impossibile russare quando si è svegli una nuova grande invenzione è stata messa a punto per stongiurare la guerra atomica dopo l'ideazione di un'antenna telepatica di un enorme razzo per trasporto truppe e di un particolare tipo di bomba nucleare il tutto regolarmente brevettato lo scienziato eugenio bonicioli ha messo al servizio dell'umanità il fluid magnetic un dispositivo di eccezionale interesse perché in grado di far cessare i temporali e di influire beneficamente sulle decisioni dei grandi in tal modo i due k non potranno mai scatenare la guerra atomica purtroppo questo enorme girasole è alimentato da normale elettricità casalinga per cui se in fase di nazionalizzazione venisse a mancare la corrente immediatamente scoppierebbe la guerra milioni miliardi no ormai i calciatori costano troppo finiremo per fare come con i televisori pagheremo a gettoni e perfino il football club per etola potrà permettersi il lusso di un fuori classe come macroni basta introdurre il gettone nell'apposita fessura e il campione si scatena ma dura poco si è già fermato dai con con la ricarica e ci risiamo occorre un nuovo gettone ma che fa accidenti scappa in sud america col malloppo se in america le donne sperimentano i brividi virili del rugby in europa gli uomini provano i morbidi palpiti della conciatura la civiltà aperto nuovi orizzonti il salto dal parrucchiere prima dell'ufficio si è trasformato per l'uomo in una lunga sosta non esiste più il taglio frettoloso ma la preziosa conciatura mi fa qui da un lato una banana oppure vorrei qualche ricericciola le basette due ore dal parrucchiere con le infinite operazioni e la giocaia del casco per la messa in piega servono qualche volta per conquistare il sesso debole molto più spesso per affascinare il sesso debolissimo alle donne insomma il mondo moderno apre anche le vie dello sport fatto appunto per la loro grazia la loro eleganza la loro lealta stiamo per assistere a un incontro fra due campionesse due regine del più americano degli sport la lotta libera nel fango fate attenzione senza nemmeno l'ordine dell'arbitro immersione non crediate che il pubblico se ne infischi dello spettacolo il giornale loro non lo stanno leggendo ma non adoperano per evitare gli schizzi di fango e si sa mai qualche altro sputarello fare l'arbitro potete immaginarlo non è facile c'è il rischio nonostante il pronto intervento di un pacere che perde il simbolo dell'autorità l'orgoglio mascolino i pantaloni questi fiori del fango ci mettono tale impegno che uno potrebbe pensare qualunque cosa voi che ne dite per noi le donne sono capaci di tutto anche di trasformare uno scherzo in tragedia è un sesso debole soltanto quando gli fa comodo ma per fortuna tutto torna a finire in scherzo anzi in idillio con un brindisi e magari un bacio ma state in guardia lo sapete anche voi che le donne sono sempre pronte a ricominciare la cronaca nera è fitta di notizie di suicidi all'insegna dei barbiturici purtroppo buttare giù due tubetti di pillole con l'aiuto di un bicchiere d'acqua è semplice indolore e non turba la nostra psicologia un settimanale femminile informa che per fermare il dilagare di tale tecnica di suicidio le case farmaceutiche americane hanno studiato di confezionare i barbiturici esclusivamente in supposte un illustre scienziato sostiene infatti che se è facile ingoiare una quarantina di pillole sarà più scomodo immagazzinare una dopo l'altra 40 supposte friderica e noriette spiegano in una visione retrospettiva il loro arrivo al successo trampolino di lancio il tunnel delle sorprese di una fiera paesana entrano due timide figliole qualche sventolio di gonna e lo sguardo attento di un impresario per loro tutto è cominciato con uno sbuffo d'aria la via del successo e dell'autentica arte passa sempre come si vede attraverso la suggestione delle giarrettiere in america hanno inventato il monochini il famoso topless in un solo e insufficiente pezzo ebbene noi dalla pudica italia rispondiamo con il ben più austero trichini che di pezzi ne aggiunge invece un altro a coprire una posizione strategica dopodiché se direte che questi sono fior di ragazze nessuno potrà farvi tacere la creatrice lia piacentini propone questa trovata che farà sorgere sulle spiagge una nuova professione quella di incollatori di ombelichi e vedrete che tra gli hobby tornerà molto di moda la caccia alle farfalle a londra per i guai del traffico hanno trovato questo rimedio le ragazze tassi un fischio ed eccola a vostra disposizione ma attenzione tenetevi stretti beh forse non è necessario raccomandarlo dato gli scossoni l'iniziativa sta avendo molto successo a londra pare che alla ragazza sia proibito portare clienti fuori della cinta d'aziaria per evitare complicazioni proibito dal fidanzato si intende al termine di una corsa che sarà piacevole anche se avrete perso tutti gli appuntamenti la tariffa mezza sterlina all'ora meno di 900 lire forse se pagate con un biglietto da mille il resto sarà un bacetto sulla guancia sempre in tema di automobile il vertiginoso aumentare della circolazione complica di giorno in giorno il problema dei parcheggi l'assillo della sosta vietata è un male clinico già studiato dagli psichiatri da questo stato di cose nata una nuova professione il bagarino dei posteggi questo signore esce ogni mattina in macchina e appena rintraccia un posto libero vi si piazza il giro dei clienti è senza fine quando ne spunta uno il bagarino in tasca il dovuto e se ne va alla ricerca di un altro angolino e di un nuovo cliente il sistema gli frutta dalle 6 alle 7 mila lire al giorno pare che ora si voglia organizzare una specie di associazione così tra non molto vi sentirete chiedere socio ma socio di che del bagarino club la tecnica moderna fa prodigi ecco l'ultima novità è un perfezionatissimo apparecchio elettronico regolato sugli articoli del codice stradale capace di operare veri miracoli appena l'automobilista gira la chiavetta dell'accensione il nuovo dispositivo fa entrare in funzione il pilota automatico la macchina guidata dall'infallibile apparecchio elettronico conduce l'automobilista direttamente in galera